Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua sul Cod in compagnia insieme al nostro caro amico Randy Renna Ciao a tutti, buonasera Il mio canale è più affizionato, altri meno, mi raccomando arriviamo ai soliti 1000 mi piace per settimana prossima un altro youtuber o altri youtuber comunque in gruppo Oggi andiamo a fare una partita su dominio come al solito, sarà sempre un senza tagli ma la variante è che in compagnia Eccoci qua ragazzi in partita, siamo con una classe un po' singolare, vi spiego il perché Oggi siamo con l'ICR ragazzi, però non ho né bonus rosso, quindi secondario, né bonus numero 3 Perché ho ben 5 accessori su l'ICR, 5 Ehm, cos'è? Una testata atomica Una roba allucinante, inoltre sto facendo delle magie incredibili Io ho sbloccato un po' di roba qua per il WMP che mi dicono tutti che è super forte, super figo In realtà è stato nerfato dopo la faccia Nooo, ecco perché Ora, cioè io mi ci trovo benissimo comunque sia, però Diciamo che un po' peggio di prima è Ok, e cosa mi consigli tu, signor Sbucci? Ma senti, io uso molto le armi con cui mi trovo bene e basta, senza badare molto a OP, non OP, sti cazzi Cioè io non, vedi, uso senza, sto, gioco senza granata primaria, senza granata secondaria, senza bonus, gioco senza niente io Giusto, senza pad, senza schermo L'importante è che mi trovi comodo nel giocare Poi il resto, cioè vedi, ora sto X0 Madonna mia Ho fatto una cosa incredibile mentre conquistavo C 7-0 Va bene No, no, non ci credo Ho preso C, però poi mi hanno ucciso Oddio, 9-0 No, no, no No, no, no Fermate il signor Sbucci No, per quanto stavo, per cambiare arma, PG quadrato Senta che ho iniziato a guidare il Talon, per sbaglio Super bombardiere lì Super accessoriato Limited edition Mamma mia Sto fiddando, cioè mi sto Madonna mia, che bell'e Ho anch'io la nave Raps, c'ho anche Io ho preso, io adesso ho cambiato, sto usando il culo Eh, il Kuda Ok ragazzi, allora L'obiettivo di questa partita è ratio Pari alle kill Quindi posso fare massimo una death sola In tutta la partita Aia Sto rushando, cioè non sto campionando Se stavo rushando era un conto, ma Sto Rusha Raps che esplodo No, ok Mi sono già giocato la prima death, ragazzi Lo accetto Mi sono giocato la prima death Però non voglio giocarmene ancora Quindi questa sarà l'unica death che farò Ve lo dico già ora Non muoio più Non muoio più Non dire ste cose che poi ti porti sfiga No, 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 no Mi stavo guardando lo score Vabbè, vabbè Doppia Una, due death Vabbè, dai Due death si concedono a tutti, eh, ragazzi Eh Due death Due, tre Cioè, otto Ma chi è che non si concedono due death Due death, rimarranno due Oh, che mi ha fatto paura No, no, c'ero io, c'ero io Stai tranquillo Madonna, la nave rap sta mettendo vittime Daglie Quanti siete qua dietro? Uno Due Due anche con il lag Mamma mia Io prendo C Perché non c'è nessuno su A? Eh, abbiamo tutte le bandiere Cioè, tutti i posti Oddio Una è sponata su A, poveretto Una stanza sono usciti Tipo il 28 Sembrava un rave E ho detto Vabbè, è stato un piacere Grazie Molto giusto Boom Attenzione Fa anche la kill E no, dai Qui dà cecato Che diamine Ci siamo stati talmente forti Che loro hanno anche vittato prima Cioè Ci sta Ci sta Giusto Se è vero Ma ci riprendiamo anche la posizione Che vogliamo entrare nel secondo round Perché Adesso il round, ragazzi È troppo squilibrato Vedete Non respawn Non respawno dove si vuole noi Cioè, questi non hanno più Né casa Né Non hanno più niente Sono dei senza partita Questi, in pratica No, 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 no D'ha cecato D'ha cecato D'ha cecato Ok Adesso è 28-3 per ora Sono lasciando E non mi sono mai fermato un attimo Io ho fatto No, io sono una merda Errateo quasi Quasi Più di 8 Errateo 9 Di là sono entrati Bene, bene Speriamo che siano combattivi Ecco, una bandona partita Ok Io non ho conquistato A Davvero pro Se non devo dire terzo Davvero prosciutto Allora Cerchiamo di E Ok La kill l'abbiamo fatta Oramai la kill numero 1 La facciamo sempre Randy è già su C Non si capisce Ma se è possibile Eh, hai visto Mi chiamavano Io sei in volto Signori Randy Grazie a vie traverse È già su C Ah, no La torretta robot Ti rendo so morto Cioè Poi tra l'altro A queste kill qua Un adetto vuol dire Tipo Di mezzare Errateo Eh, sì Purtroppo Quella roba lì È proprio brutta Madonna mia L'inferno No, la torre Ancora Io sono deficiente Eh Io sono un po' deficiente Mi stanno andando a prendere C Perché io Un amore spassionato Sto muorendo troppe volte Sto muorendo Troppissime Volte Oh, non muoiono Oh Cioè Ragazzi Ma che Io sparavo 26 colpi Non è morto nessuno No, no, no No ragazzi Basta Cioè Sono entrati due camper Dirà praticamente Come camper A quel tizio Guarda lì Non sanno a cosa vanno incontro Ma che No, va bene A questi piace la morte Fisica Vogliono la morte Questi vogliono Vogliono la morte Dei sei Ma poi è morto Immortale No, cosa no 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 Ma che Cazzo Non muoiono più Ma che è successo Cioè Stavo Non morivo mai Li lavo tutti Oh Sto cadendo Ok No Ci sono Guardalo No, no, no Te mi hai rotto il cazzo Ora ti uccido Sei morto Ma basta Ma sono tutti a camperare Ma che schifosi E te mi hai rotto il cazzo Comunque Io tutta la partita Che rascio Questa invece ha iniziato a camperare Perché senza camperare E vabbè sono immortali Poi Che sei Giusto Se è vero ma giusto Io sono dietro le quinte dei camper di B Volendo Quindi se volete Eh no Camperano troppo Su B Venite sua Venite sua Venite sua Sì sì Sto arrivando Io sono qui Ok Sto arrivando E chi rendi Oltre a hill Vogliamo anche vincere Eh certo A noi piace A noi piace vincere A noi piace vincere A noi piace vincere Con il cazzo duro Se non sbaglio Esatto E se sono andate a prendere C Sono morto a Larry Schicks Tra l'altro ho anche Io ho anche Anti schegge Ma a quanto pare Non serve una minchia Come al solito Ma dai Dietro l'angolo Non si credo Non si credo Uno abbiamo freddato in questa maniera ignobile Guarda guarda Ma questo non è morto Gli ho scaricato Tutto su un caricatore Non è morto Non è morto Ok ok Io sono dentro C Arrivo 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 C'è gente vicino comunque Ce ne sono due che stanno arrivando Io non ho paura Io non ho pure niente Vai Randy prendi C Arrivo 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 Prendi C che è fondamentalissimo Ok Prendi 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 bravissimo Prendi 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 rendi No 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 B Difendete B Bravo bravo Difendete B Difendete B Ma dai Difendete B Che è sta roba Hanno ripreso Tutto Riconquisto B Riconquisto B Arrivo Sono molto stealth Molto stealth Confiando nei miei compagni Nei miei compagni Nei miei compagni Double kill Sono con te Vai 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 Via 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 Andiamo su A Andiamo su A No andiamo su C Oh Dio Ho killato Ho killato Tutti su A Mori 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 Grande Tripla Prendi Oh mio dio Ragazzi Ti chiamo ma non Eh no ero Ero il rush Ero il rush Ero il rendi ci si è provato I rendi abbiamo provato a risollevare le sorti dell'umana stirpe Ma dai Ma niente Ma niente sorti dell'umana stirpe ragazzi Non ci abbiamo fatto Aspetta aspetta Deva prendere a Deva prendere a Io Terminator Vieni con me Dai Eh lo so ma It's too late Apologize E ne ho capito che it's too late Però Eh vabbè Eh beh Eh beh Tra l'altro stavamo stravincendo E alla fine l'abbiamo Ta 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 Preso nel Comunque questo appunto ragazzi E alla fine del video Bene o male Comunque sia Più di Rato 2 l'ho fatto Anzi ho fatto Esattamente La modica cifra Di Rato 2.82 Quindi quasi Rato 3 Vi invito a lasciare un bel mi piace A condividere A commentare il video I link del canale di Ren Di Ren Di Ren di Ren E i link utili e inutili Sono qua sotto Vi invito anche a passare dai miei social Che appunto sono anche essi qua sotto Noi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Mille like Prossimo youtuber Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Nini Bella